buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è mercoledì 12 luglio 2023 e vediamo che oggi si festeggiano due santi i cui nomi non sono molto conosciuti eccetto uno bene sono i santi ermagora e fortunato di aquileia vissero nel settimo secolo il primo fu un discepolo di marco e morì sotto la persecuzione il secondo suo diacono subì la stessa sorte entrambi sono raffigurati nella basilica di san marco a venezia a quella di aquileia la bellissima basilica paleo cristiana di aquileia e nella cattedrale di udine ecco i santi ermagora e fortunato un nome simile un altro santo e quello venerato come protettore della città di fano insieme a sant'orso a sante eusebio e a san paterniano di cui il 10 luglio si è celebrata la festa vediamo ora le previsioni del tempo passiamo alla grafica tempo stabile e ampliamente soleggiato tutta la giornata di oggi e ci sarà però qualche velatura di passaggio il clima è molto caldo vedremo poi come le ripercussioni del clima si riverbereranno nella popolazione le temperature dicono e le previsioni raggiungeranno anche i 37 39 gradi veramente siamo al massimo della temperatura estiva le minime come come le massime parole povere le minime hanno raggiunto i 27 gradi ebbene allora passiamo in spiaggia vediamo un attimo com'è il tempo con il nostro collegamento con cristiano boni dei bagni azzurra ciao cristiano buona giornata buongiorno massimo buongiorno tutti gli ascoltatori allora c'è una piccola variazione del tempo oggi rispetto a quello di ieri si metteva tutta la settimana bella è bello è anche oggi ma chi si è svegliato presto si è svegliato all'alba visto due goccioline leggermente velato come hai detto tu poco fa dalla grafica del tempo dovrebbe essere comunque una giornata buona si sente dall'aria dalla pressione molto alta quindi non non spaventiamoci ancora tanto caldo oggi no no con il caldo che fa poi si sta bene in spiaggia magari anche in acqua perché così un po si stempera la temperatura è vero senti cristiano ci racconti un po come hai trascorso la giornata di ieri qual è l'attività quotidiana di un concessionario di spiaggia che cosa hai fatto ma diciamo tutto quello che riguarda l'attività che c'è in spiaggia perché come ti dicevo ci abbiamo anche il bar ristorante quindi si parte dalla mattina con la preparazione come vedi dello stabilimento tutto pronto lettini posizionati verso il sole quindi comodità assoluta dove arrivate appoggiate l'asciugamano poi comincia esserci un po più da fare al bar e ovviamente l'ora di pranzo pieno come sempre e l'ora di cena quindi sono giornate belle piene finalmente dove lavori se contento fa piacere fa piacere dare un bel servizio alle persone quindi questo in primis vediamo anche grazie al alle immagini che ci mostri girando un po qua e la sulla spiaggia che c'è una bella una bella distanza tra un ombrellone e l'altro in modo che chi ha l'ombrellone può tranquillamente godere del suo spazio questa è una bella cosa vi faccio vedere periodo sotto covid non voglio ritirare fuori pensieri che sono già stati ma ci teniamo tantissimo alle distanze come vedete tra una fine dell'altra ci sono sei metri e ci siamo accorti negli ultimi due anni che questo piace tanto le persone perché comunque non c'è quel sovraffollamento la spiaggia piena e diciamo che ancora sono un po legate alle distanze le persone è normale certo certo comunque è meglio avere un ombrellone in meno è una distanza accettabile in modo che i clienti stiano a loro agio benissimo cristiano ha premiato tanto questo sì ok grazie cristiano ci risentiamo domani ti auguro anche oggi una buona giornata un saluto a tutti anche da parte mia una buona giornata a domani a domani ciao ed ora apriamo i giornali oggi al corriere adriatico e vediamo che la stessa apertura lo stesso argomento c'è sul resto del carlino qual è questo argomento ebbene oggi inizia la fano dei cesari questa bella manifestazione che riporta la città di fano a rivestire l'atmosfera l'aspetto dell'antica fanum fortune stasera si riaccende il fuoco sacro la romanità diventa una grande festa si apre la fano dei cesari cinque giorni di eventi sfide spettacoli il clou con la corsa delle bighe e vediamo anche subito il resto del carlino e vediamo che l'argomento è lo stesso vestali e centurioni così la fano dei cesari infiammerà il pincio al via stasera la cinque giorni della manifestazione dedicata alla romanità come si incomincia si incomincia con lo spettacolo dell'accensione del fuoco sacro che tradizionalmente viene fatta dal sindaco massimo seri in un contesto scenografico dove appariranno le vestali che come si sa erano le custodi del sacro fuoco di vespa di vesta e vediamo anche che nel foro romano esiste ancora il tempio e anche la casa delle vestali dove queste praticavano gli antichi riti l'appuntamento per questa sera è alle ore 21 e poi il giorno dopo cioè domani si comincerà la grande con tutta la serata dedicata pomeriggio serata dedicata ai bambini perché ci sarà la corsa delle bighe che insomma rifarà il verso molto molto simpatico molto gioioso alla grande corsa delle bighe che è prevista intorno alle 22 di domenica prossima ebbene alle 19 e 30 si svolgerà la corsa delle bighette riservata ai bambini è una corsa originale dove i bambini sono sopra le piccole bighe e queste saranno trainate dai genitori che dovranno competere in una corsa per arrivare primi al traguardo ma prima ci saranno anche altri giochi preparatori come per esempio la riproposizione della leggenda del minotauro la gara delle afore e la gara di fascia la mummia insomma dei giochi molto divertenti per i bambini e poi e poi insomma la città piano piano inizierà a rivestire l'antico aspetto romano perché in tutta l'area limitrofa a san michele vedremo che sarà riproposto un macellum comprensivo di follonica ovvero dove si coloravano le stoffe e poi vediamo una domus antica insomma si potrà veramente penetrare nel contesto di duemila anni fa e poi venerdì altri giochi sabato i baccanaglia e la domenica la grande riproposizione della sfilata quest'anno sarà il trionfo veramente una scenografia molto 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 bella molto partecipata ci saranno pensate duemila figuranti che apparterranno ai diversi quartieri della città vengono definite le fazioni lupo cinghiale volpe insomma ci saranno vera delfino ci saranno veramente tanti personaggi in costume che non solo sfileranno ma inseneranno anche delle performance dei riti e quindi sarà un bello spettacolo da vedere l'appuntamento dunque per cinque giorni a fano per rivivere la romanità passiamo alle altre notizie sul corriere adriatico andiamo in fretta per poter relazionare il più possibile di notizie e vediamo che in via bovio a fano scoppia la polemica tra chi vuole la via pedonalizzata e chi invece non la vuole non la vogliono i residenti mentre la vorrebbero i ristoratori per avere più spazio per le loro attività ovvero più spazio ai tavolini all'aperto e questo ovviamente confligge con il traffico motorizzato ma questo non sta bene ai residenti perché i residenti hanno bisogno invece di maggiore mobilità ebbene oggi sul corriere adriatico si riporta la protesta di questi ultimi un ristoratore chiede che via bovio sia interdetta al traffico veicolare agli abitanti della zona questo non sta bene insomma e vedremo come andrà a finire un bel lavoro è stato quello che è stato realizzato invece nel pavimento che costeggia il bastione sangallo quello che discende da viale 12 settembre conduce alla stazione un pavimento che fino a pochi giorni fa era molto degradato insomma era un materiale era stato fatto con un materiale che mal si addiceva al transito e soprattutto quello dei cariolini pensate quelle quando uno arriva in stazione e poi arriva in città trascinando con sé il suo bagaglio e farlo camminare roteare nel pavimento di allora non era certo agevole invece ora il pavimento è stato ristrutturato con un materiale molto più compatibile si tratta del levocell ed ora l'aspetto è certamente migliore c'è una dichiarazione sul giornale dell'assessore ai lavori pubblici barbara brunori che evidenzia come poi ora seguirà anche l'intervento sulla illuminazione del bastione e quindi assumerà anche un aspetto scenografico molto molto più seducente bastione che tra l'altro è oggetto anche di lavori di ristrutturazione all'interno quindi un progetto che ancora rende più bello questo monumento ed ora diamo un'occhiata invece a questo articolo a fondo pagina del corriere adriatico che proviene dal tribunale di pesaro sfruttamento di richiedenti asilo 21 testimoni sono tutti ragazzi stranieri reclutati in un panificio 12 ore di lavoro e salario di fame ebbene e ieri fuori dall'aula del group c'erano 21 ragazzi africani tutti pronti a raccontare la loro verità tra loro un giovane della guinea da cui sono partite le denunce nei confronti del titolare della Swiss Pan un panificio di San Costanzo che distribuisce prodotti per la grande distribuzione non solo a Pesaro ma in tutto il centro Italia lavoravo più di 12 ore al giorno ha dichiarato questo ragazzo poi quando mi ha cacciato perché mi lamentavo perché volevo un contratto volevo avere i documenti non ho avuto più paura e allora l'ho denunciato e quindi questo si svolgerà davanti al giudice. Relazioniamo brevemente anche su questo articolo di spalla per quanto riguarda la politica la politica interna al partito democratico intento a scegliere il nuovo segretario che dovrà sostituire il compianto Tommaso della Dora e il partito è in fermento domenica prossima ci dovrebbe essere l'assemblea decisiva quella che dovrebbe eleggere il nuovo segretario e le cose sono in bilico tra chi opera per avere una risoluzione unitaria e invece che chi purtroppo dice non c'è possibilità di dialogo di confronto e quindi ci sono due correnti molto separate e quindi ci sarà una elezione a maggioranza. Mancano ormai quattro giorni all'assemblea elettiva convocata alle 9.15 di domenica prossima nei locali del centro civico in via cena a Gimarra. Abbiamo visto nei giorni scorsi come in pole position è Renato Claudio Minardi uno dei politici più rappresentativi del partito democratico è stato consigliere comunale consigliere provinciale vice presidente del consiglio regionale e ora insomma è in pregiudicato per diventare non sappiamo se questa carica insomma lui è molto contento di occuparla questo non lo sappiamo comunque vedremo la suo atteggiamento e vedremo come andrà a finire. Allora vediamo le altre località dell'entroterra siamo ad Acqualagna il Candigliano è pericoloso lavori di ripristino a metà il titolare della ginestra quel ristorante che è in prossimità del furlo dopo l'esondazione ha presentato un ricorso al tribunale. Il Candigliano all'altezza di questa struttura dopo i danni ingenti che ha provocato esondando resta un vero e proprio pericolo ed è oggetto di un ricorso al tribunale di Urbino. Torniamo un attimo a Fano per evidenziare il successo della tombola che è stata organizzata in occasione della festività del Santo Patrono di San Paterniano. È stata un'iniziativa che veramente in piazza ha radunato una marea di gente c'era tantissima tantissima gente e questo dopo un vuoto dovuto per l'assenza della manifestazione a causa del covid. Insomma la gente ha ritrovato il piacere di giocare ad un antico gioco come quello della tombola e bambini, adulti, anziani hanno acquistato le cartelle per partecipare a questa grande grande chermessa. Addirittura ha acquistato delle cartelle anche il nuovo vescovo Monsignore Andreozzi. Ebbene a vincere la tombola e all'ultimo numero della sesta decina è stato Federico Tamburini, un riminese che era a Fano così in vacanza e quindi ha vinto 1250 euro in buoni acquisto. Insomma non è poco. E poi abbiamo Simonetta Leggi che ha vinto la Quaterna, Simonetta Leggi di Fenile e Alessandra Patrignani che ha centrato la cinquina con al diciannovesimo numero intascandosi 500 euro. 250 la Quaterna e 500 la cinquina. Non sono grandi grandi cifre però insomma è piacevole partecipare a questo antico rito. Un incidente stradale viene evidenziato per quanto accaduto a Mondavio. Sfonda con l'auto il guardrail e poi precipita nel Rio Maggio. È accaduto a Mondavio un ragazzo di 24 anni ha perso il controllo della sua autovettura ed è stato trasportato all'ospedale di Torrette. Stava rientrando a casa. Il fatto è avvenuto sulla strada di San Lorenzo in campo procedendo in direzione Marotta-Pergola. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Giriamo la pagina. Oggi sul Corriere Adriatico non troviamo quella di Senigallia per quanto riguarda l'edizione ovviamente della provincia di Pesaro-Urbino. Però diamo un'occhiata anche la pagina dello sport. Vediamo che la Vis ora si scalda. La pista Persilla, l'attaccante dell'Alessandria, sembra più vicino alla società pesarese. Siamo ancora nel momento dell'infoltimento dell'organico, insomma dell'acquisto nel mercato. Si tratta di un senegalese il cui profilo ricalca le caratteristiche che vuole proprio il DS, il direttore sportivo, Menga. A Fano invece l'iscrizione alla D è fatta. Poi si pensa ancora al ripescaggio della Serie C. È stata inoltrata la domanda entro martedì 18 luglio, però bisognerà presentare quella per concorrere alla Lega Pro, ovvero alla Serie C con un ripescaggio. Una volta avanzata la richiesta bisognerà aspettare fine luglio per conoscere poi il verdetto. Vedremo se i Granata potranno disputare il campionato della Serie C. Vediamo ora il resto delle Carlino. Abbiamo visto l'articolo di apertura dedicato all'affano dei Cesari. Vediamo a fondo pagina invece una iniziativa di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi dedicata alla solidarietà. È una iniziativa organizzata dal Rotary Club di Fano, una regata solidale per raccogliere fondi. Sabato e domenica l'iniziativa benefica organizzata dal Rotary e il club nautico fanese Geremia Viviani. Ebbene, si tratta di un'iniziativa, una gara velica, il cui ricavato andrà a finanziare il progetto 6 plurale dell'ambito territoriale numero 6 per la realizzazione di nuovi spazi per famiglie dove appunto ottenere un sostegno economico ma anche per quanto riguarda l'accesso ad eventi formativi. Insomma, non solo avere il pesce ma avere anche la rete per pescarlo, ovvero per poter risalire la china e avere una minima almeno autosufficienza. Sfruttati e poi licenziati, volevano solo il contratto, anche il resto del Perlino dedica spazio alla rivendicazione di un gruppo di 21 lavoratori della UIS SPAN e poi vediamo che ci sono ancora polemiche per la domanda dei frati trappisti di realizzare un monastero a Monte Giove. Un monastero? Bene, i frati si sa cercano sempre luoghi solitari, luoghi in cui istituire un romitaggio. Montegiove potrebbe fare benissimo al loro bisogno, però ci sono gli ambientalisti che si oppongono. Oggi si parlerà di questa variante in commissione urbanistica, lunedì in consiglio. Intanto la strada per l'ok al piano regolatore è sempre più in salita. La Lega insorge e chiede ancora una volta le dimissioni del sindaco. A Mondolfo c'è una gara di solidarietà per i familiari di un ex calciatore morto in un incidente. Si tratta di Festus Nortei, il trentenne che è morto nel sud Italia mentre era molto noto, molto noto a Mondolfo. È morto in un incidente stradale nel Casertano. Fino al 2020 è vissuto a Marotta dove abita ancora la sua famiglia. Quindi anche una bella iniziativa per sostenere questi familiari colpiti da un lutto veramente grave, un lutto drammatico. Un'estate tutta da vivere a San Lorenzo in campo. 40 appuntamenti animeranno la stagione turistica e culturale di questo bellissimo centro della Valle del Cesano. A Urbino. A Urbino Mechelli si smarca, non alla discarica, senza indugi, ma aggiunge il consigliere del consiglio d'amministrazione, Baccio Fiaccarini, che risponde a Gambini, ma anche alla sua coscienza. Il sindaco di Pesaro deve dire cosa intende per ipotesi B, altrimenti è ipocrisia. Bene, al centro abbiamo sempre la discarica di riceci, che viene contestata acerbamente un po' da tutto il territorio. Ci sono comunque contrasti, ma soprattutto oggi abbiamo una presa di posizione di Lino Michelli, consigliere comunale, che ribadisce il proprio no alla discarica di riceci e chiede ai responsabili di chiudersi in un conclave, in un ambiente definito, in modo che poi si esca con una decisione presa e certa, in modo che si stronchi veramente ogni polemica. La vegetazione del furlo su mappa crescono soprattutto i querceti. Ad eseguire un'attenta analisi sul terreno per quanto riguarda la vegetazione, utilizzando anche i droni, è stata la professoressa Simona Casavecchia. Una bella, utile ricerca per quanto riguarda tanti aspetti della vita culturale, della vita sociale, della vita economica del territorio. E poi vediamo ancora un articolo che riguarda Cagli, sempre meno medici, la contesa con Apecchio. In questo caso l'ex consigliere Ninel Donini, che interviene e dice che per le visite la situazione è veramente drammatica, facile immaginare cosa possa accadere se di notte ci fossero più chiamate. E critica la situazione sanitaria nelle strutture della costa, pensate cosa può esserlo in una struttura dell'entroterra, lontana dai centri ospedalieri più forniti, dove magari le operazioni di soccorso non sono così celeri come dovrebbero esserli. Insomma, veramente abitare in un centro lontano dalla costa è un problema anche di ordine sanitario. Invece a Urbania vediamo un fatto drammatico, un sessantenne passa dal sonno alla morte, ma c'è un'inchiesta. L'uomo sposato, residente ad Urbania, non presentava segni di violenza, ma la procura attende l'esito dell'autopsia. Si tratta di Luca Marini di Urbania, che è stato rinvenuto senza vita nei giorni scorsi all'interno della propria abitazione. Siamo in conclusione, voglio segnalarvi ancora qualche articolo di Pesaro, dove interveniamo sul caos di Marche Multiservizi, così come lo definisce il giornale. Ora in campo gli avvocati discarica. Il Consiglio d'Amministrazione sapeva e ha detto sempre sì, il legale dell'azienda ricostruisce le tappe in una dettagliata lettera ai soci. Questo per quanto riguarda appunto l'azienda dei servizi. E qui chiudiamo il giornale. Abbiamo terminato la nostra rassegna stampa. Io vi auguro una buona giornata e noi ci risentiremo domani sempre alle ore 7. Grazie per l'ascolto. A risentirci.